2-0 nella prima contro l'Olympic, un buon inizio? L'analisi della partita? Direi di sì, un buon inizio, siamo partiti con i tre punti subito, partita equilibrata però siamo riusciti a sbloccarla, poi abbiamo chiuso la partita nel secondo tempo e abbiamo resistito fino alla fine, loro sono una buona squadra, noi anche, e quest'anno puntiamo a far bene, siamo partiti carichi e non vogliamo mollare un cazzo. Va bene, siete passati nel girone della Coppa Liguria, obiettivi per il futuro, è presto parlarne? È presto parlarne però giochiamo partita per partita su tutti e due i fronti, io personalmente non ho mai vinto la Coppa, mi piacerebbe vincerla. Poi il campionato è lungo, vediamo, i conti si fanno a febbraio-marzo però è giusto stare sempre lì sul pezzo, tra le prime, coinvolgere tutta la rosa perché il campionato è lungo, qualcuno oggi non ha giocato, deve avere il sorriso e continuare così e continuare ad allenarsi. Il periodo per tutti arriverà, quindi testa alta e forza multero. Grazie mille Ciglioni, alla prossima!